Approfondiremo le 5 competenze chiave dell'approccio socio-emotivo con una panoramica sulle teorie di riferimento, ma soprattutto vedremo insieme alcuni strumenti e alcuni spunti da utilizzare concretamente nella vostra esperienza quotidiana. E' molto importante che la scuola si prenda cura di tutte quelle competenze fondamentali per favorire, accanto all'apprendimento degli studenti, anche i loro risultati futuri. Le competenze socio-emotive aiutano a prevenire i comportamenti a rischio e a distaurare un clima accogliente e stimolante in classe, non soltanto per gli alunni ma anche per gli insegnanti. Le relazioni positive stanno alla base non soltanto dell'apprendimento, ma soprattutto della felicità delle persone. E su questo voglio mostrarvi i risultati di una ricerca molto interessante. Le competenze socio-emotive sono richieste anche sul posto di lavoro ed è quindi necessario che nell'ambito dell'apprendimento l'aspetto emozionale venga posto sullo stesso piano rispetto a quello cognitivo. Grazie!